Bentornati a SOS Rezzo TV No, a te ce la fai il fiatone Senti qua Io no, vedi Ci hai fatto fare un giro Perché per venire a Cassione Pibocchi Va fare un bel giro Ah, poi hai visto Camio dove non devo passare Code che non finiscono mai Allora, siccome hai visto la Catalogna Che si vuole separare Che qui siamo a Cassione Pibocchi In via del Regno separato Quindi? È vero che a Cassione Pibocchi Insomma, in strada normali Ma insomma Adesso Via del Regno separato Ah, cioè casualmente guarda Chi c'è? Si sta avvicinando Dottor Ferini Che è il vice sindaco È il vice sindaco Ce lo facciamo spiegando lui Ma mi spieghi perché mi hai portato Sì, il vice sindaco Venga qua Venga qua Perché io vengo spesso Quello Regioni E ho visto Via del Camai Club Trattori Quello di notte Esatto Ma capite Ho visto questa Via del Regno separato Curiosità Il Regno in Italia non c'è più Dal 1946 Buonasera vice sindaco Buonasera Buonasera Bene, bene Voi? Tutto bene? A che si riferisce? Ma chiacchiera Io non ho capito di noi Niente Sta a chiacchierare Se il vice sindaco Ci spiega Via del Regno separato Ma questo Guarda Questa è una brutta storia Perché l'11 e 12 marzo 1860 Quando ci fu il plebiscito Per l'Unione Al Regno di Sardegna Quindi per l'Unità d'Italia Parliamoci chiaro Castiglian Fibocchi votò contro Non voleva fare l'Unità d'Italia Voleva fare l'Unità d'Italia Ma non Hai capito? Ma non è una cosa così 106 a 46 Quindi una maggioranza netta Una maggioranza spaventosa Ora Questo è un episodio storico Mi può stare anche bene Vabbè È storia Vabbè Castiglian Fibocchi votò così Tra l'altro anche Radda Incanti E Reggello votarono contro Ma La differenza lì fu soltanto di pochissimi Voti Qui invece è una stecca paurosa Però Intitolargli anche una strada Un po' esagerata Mi sembra veramente fuori luogo Cioè Una strada si chiama così da quel momento? No Dopo Questo è il bello Ah Quella è cosa Spassi Ma sei il vice sindaco Perché io no Ma ora cambierò questo Farò di tutto per cambiarla Quando è stata intitolata? È stata intitolata praticamente Negli anni 90 Nel anni 80 Anni 80 del 900 Questo è un po' particolare Appunto Ma l'hanno fatto forse per ricordare questo fatto Ma cosa vuoi ricordare? Scusa È un fatto da ricordare Allora sarebbe come a Napoli Intestassero qualcosa a Ferdinando di Borbone Ma ti sembra una cosa Ragazzi qui siamo È più facile La testa di Maradona a Napoli Ma insomma Qui siamo Regno separato Cioè non indipendente No Separato Separato proprio Separato Quindi Non solo separato Ma governato da chi? Dagli Asburgo Dagli Austriaci Non c'erano elezioni Era una monarchia assoluta Tra l'altro ho saputo che ad Arezzo Ad Arezzo C'è anche un'associazione culturale Fra virgolette Intitolata A Leopoldo II di Toscana Ma è spaventoso È micidiale Ma questi sono punti di vista A Leopoldo II di Toscana Ha fatto una bella operazione In Valdichiana Sì eh Quella buonissima Sì bene I canali Hai visto qualcosa In testato te Ho intitolato ai medici Che sono stati quelli Che hanno creato il risorgimento Il rinascimento Dico sbagliato Il rinascimento E hanno creato loro Il Gran Ducato di Toscana E la Toscana Non siamo tant'amanti dei medici Noi la Sardegna No Anzi A noi quelle palle Ci danno molto noi No guarda Allora ti dirò questo Che Arezzo È stata sempre contraria La Repubblica Fiorentina Ma mai contro i medici Non ha mai fatto Una sollevazione contro i medici La Repubblica Fiorentina sì Per forza Ci hanno fatto la fortezza Con i cannoni girati Verso la città Comunque i medici Sono stati quelli Che hanno creato Il Gran Ducato di Toscana Hanno creato loro Hanno creato il rinascimento Il rinascimento Hanno creato tutto quello Che dopo Roma Viene Firenze Hanno creato una grande cosa Che è conosciuta In tutto il mondo Culturale Non viene conosciuta niente Gli Asburgo Gli Asburgo Gli Asburgo Che dall'Austria Vengono qua giù A usurpare Il Gran Ducato di Toscana Perché Perché loro trattavano Queste cose Come se fossero poteri Dici Aspetta Questo qui sa Chi sa Questo si dà a te Vai Alla Maria Luisa Gli si dà un'altra cosa Gli si dà a Luca Oppure se no Il Ducato di Toscana Poi Napoleone Ha continuato a fare uguale però Beh Napoleone Gli Cognati Sì Per forza Non si fidava di nessuno Si fidava solo Di chi si doveva fidare Comunque Ad Arezzo I medici Non sono molto visti bene Perché capirai No Ma Arezzo Con i medici Non ha mai avuto niente Contro i medici Quindi ripeto Alle guerre che ha fatto Le ha fatte contro la Repubblica Fiorentina Nel 300 E così anche nel 1500 Che ci fu una ribellione Nel 500 Ma la Repubblica Fiorentina Di Pierzo Derini Ma contro i medici Mai E quindi come Come si potrebbe chiamare Come la possiamo chiamare Cambiando nome Allora io ti dico subito Quello che è la proposta Che farò Alla giunta Comunale Prossimamente Su questi schermi Come diceva cosa Se tu guardi Quella casetta lì Ecco Quella è la casa Dove abitava Una certa Elisa Carloni Elisa Carloni Chi è Elisa Carloni? È stato il primo sindaco Posso proporre Ma ci sono tante altre cose Per esempio Lui spiegava in via Marconi No no Via Marconi La vede via Marconi Questa Ah questa è via Marconi Ah questa è via Marconi Lungamini Allora Via Elisa Carloni E poi scrivono via G.Marconi Che sei proprio te Ma Gli abitanti cosa ne potrebbero pensare di questa cosa? Ma non lo so Questa è una cosa che la dico a voi Come scuola Siete i primi Grazie A cui lo dico Siete i primi a cui lo dico Però grossi danni non penso di fare Perché qui ci stanno soltanto due famiglie In questa strada Due abitanti in via del Regno Separato Regno Separato Che io ne ho parlato con una di loro Dico ma non ti vergogni Andare in giro A dire che sto in via del Regno Separato Ma insomma È una cosa brutta Ecco Ma io penso proprio di sì Grazie Grazie al vice sindaco E alla futura via Elisa Carloni Possiamo anche mantenere Già via del Regno Separato Molto già però Molto già Molto già Grazie a Beppe A domani Ciao